Vorrei dedicare tutti i video di questo viaggio, i precedenti, questo e tutti i prossimi che farò qui e nel proseguo di questo mio viaggio che sarà incredibile se tutto andrà bene, sarà un viaggio fantastico, vorrei dedicare questi video a Clelia Serenetta che purtroppo non è potuta venire, non è potuta venire ma spero che in futuro io e lei potremo condividere dei viaggi perché vorrei farle conoscere il mondo, purtroppo per ragioni di età non è potuta venire ma un giorno credo che verrà spero, questo lo dedico anche a tutti voi, questa cartolina digitale a tutti voi e a tutte le persone che mi conoscono e che sono state positive nei miei confronti, grazie a tutti quanti, da Francesco Casta e da questo piccolo paradiso Val d'Austano.